Iniziare la campagna elettorale con mesi di vantaggio rispetto agli altri candidati è stato un vantaggio perché ci ha dato il tempo di studiare maggiormente una città molto grande, Roma, di approfondire, di ascoltare molto in tutti i quartieri cittadini. Questo è stato molto utile per definire le soluzioni, il programma. Non considero un rischio in una campagna così lunga la sovraesposizione mediatica. Il rischio è piuttosto la sottoesposizione mediatica, nel senso che a un certo punto i media sono abituati a vedere lo stesso candidato e quando arrivano più tardi nuovi candidati rischi di finire in un cono d'ombra. Nel nostro caso non è stato così perché Carlo Calenda ha una sua visibilità e ha un suo talento anche nel mantenere questa visibilità.